Consiglieri che seguono i lavori in silenzio e con attenzione, un'aula dove regna l'armonia e il rispetto dei ruoli, poche assenze e in caso tutte giustificate. Il presidente Renato Claudio Minardi assieme alle due vicepresidenti Barbara Brunori e Marta Ruggeri ha reso noti i dati sulle attività e le presenze in consiglio comunale relativi al periodo che va dal 23 giugno, giorno dell'insediamento, al 31 dicembre 2014. Gli stacanovisti del PD sono lo stesso presidente, gli assessori Stefano Marcheggiani e Carla Cecchetelli, Cristian Fanizi, Francesco Toriani, Sara Cucchiarini, Alberto Bacchiocchi, Enrico Fumante e ancora Enrico Nicolelli e Terenzio Ciaroni. Di sinistra unita l'assessore Samuele Mascarin, Carla Luzzi, della lista civica Noi Città l'assessore Caterina del Bianco, Laura Serra, di noi giovani Mattia De Beneditti, sede grillini Marta Ruggeri, della tua fano Stefano Guzzi, mentre della lista civica La Cosa Giusta Aramis Garbatini. Invece quelli che hanno registrato maggiori essenze sono stati Mirko Carloni, della lista civica La Cosa Giusta, Riccardo Severi, di Noi Città e Maria Antonia Cucuzza, di Forza Italia, ma Minardi assicura che sono tutte causate da impegni lavorativi o per motivi di salute. Ma è un consiglio comunale che sta lavorando, sta lavorando bene, sta lavorando anche in modo ordinato, diciamo, c'è un bel rapporto all'interno del consiglio comunale durante lo svolgimento dei lavori. Io ricordo sempre che il consiglio comunale è il luogo dove si fanno le scelte più importanti per la città e quindi vedere consiglieri che stanno ordinatamente a seguire i lavori, stanno attenti alla discussione, seguono la discussione, lo ritengo un fatto molto positivo. Armonia presente anche all'interno dell'ufficio di presidenza, riunitosi ben 18 volte e come sottolineato dalla Brunori si è lavorato per realizzare un calendario trimestrale in cui sono state programmate le future sedute e fino ad oggi non è stata spostata nemmeno una data. D'altra parte la Ruggeri ha tirato fuori le note dolenti, infatti ha riscontrato un'opposizione frammentata e vorrebbe che le commissioni diventassero un vero luogo di studio e di proposta. Inoltre lamenta che le documentazioni vengono inviate ai consiglieri solo tre o cinque giorni prima rispetto alle varie riunioni e quindi c'è troppo poco tempo per studiare il materiale oggetto degli incontri. Infine ha evidenziato il fatto che i documenti della minoranza non sono mai stati presi in esame nemmeno in commissione e a proposito di commissioni Minardi ha risposto alla cucuzza, la quale ha chiesto di far chiarezza sul continuo rinvio della sesta commissione, sostenendo che si è riunita appena quattro volte. Un dato comunque errato, visto che da quegli ufficiali contenuti nei verbali ne risultano sette. La convocazione della commissione attiene esclusivamente al presidente della commissione. Io peraltro quando ho insediato tutte le commissioni consigliari ho ricordato a tutti i presidenti e a tutti i consiglieri che le commissioni non devono servire soltanto per dare un parere agli atti che vanno in consiglio ma devono essere anche di supporto. Oltre a questo il presidente ha annunciato l'inizio dei lavori per le operazioni che rientrano nel progetto Trasparenza. Si tratta di una rivoluzione tecnologica che inizierà con l'adozione della posta certificata per mettere al corrente i consiglieri della convocazione del consiglio. Inoltre le sedute saranno trasmesse in diretta streaming sul sito comune.fano.ps.it probabilmente già dalle prossime sedute e saranno suddivise per data e argomento con il nome dei gruppi consigliari, dei consiglieri, degli assessori e del sindaco. L'archivio sarà quindi a disposizione della cittadinanza e le immagini saranno anche sottotitolate per i non udenti, dunque operai al lavoro per sostituire l'impianto audio, posizionare meccanismi per la votazione elettronica e installare le telecamere. Volevamo fare proprio questo, cioè rendere il consiglio comunale il più semplice possibile, il luogo dove si fanno le scelte più importanti, quindi massima consapevolezza da parte dei consiglieri e poi l'effetto trasparenza ovviamente.